Venerdì 23 ottobre ore 17.30 dove si terrà appunto si tiene l'inaugurazione di Salerno storia di un cambiamento alla lungo irno a cura del laboratorio di pensieri scomposti di Salerno e vediamo qui come il percorso ecco della lungo irno si è stata ricostruito da Rosaria Giannino interamente il percorso che va dalle terme campione fino ad arrivare ecco alle vecchie industrie alla salida alle terme campione alla fabbrica d'agostino per un percorso quindi una scenografia che si struttura ecco di 20 metri ripercorriamo appunto il ponte della lungo irno e anche un frottaggio dei giornali ecco che hanno parlato quindi di questo evento per poi procedere ripercorrendo appunto le onde del fiume tutti i personaggi che si sono susseguiti in qualche modo ecco stiamo camminando accanto al letto del fiume ricostruito minuziosamente da Rosaria Giannino e vediamo quindi una madre ecco che porta la carrozzina col proprio bambino Pinocchio emblema appunto del parco Pinocchio che è stato ricostruito costruito in questo nuovo spazio ed ecco quindi appunto il letto del fiume del fiume Irno fiume che ha dove sorta ecco l'industria salernitana e che ha permesso quindi lo sviluppo urbanistico estetico della nostra città